Partiamo dal presupposto che il primo responsabile del nostro primo tempo sono io, quindi sono io che mi devo assumere le responsabilità anche perché sono io che preparo la partita insieme ai calciatori. Poi è inevitabile che i calciatori vanno in campo e cercano di fare… diciamo che il primo tempo è stato molto importante per noi, è stato molto importante perché il primo tempo ci ha fatto capire che comunque a prescindere le partite si vanno affrontate ma non sempre nella stessa maniera perché bisogna rispettare comunque l'avversario, i pregi dell'avversario e cercare poi di esaltare i difetti. Forse nel primo tempo noi siamo stati per mia colpa, abbiamo sbagliato qualcosa, siamo stati fin troppo arrembanti in fase di non possesso, cosa che poi qualcosina abbiamo cambiato nel secondo tempo, abbiamo usato la testa e poi ci abbiamo messo il cuore e le gambe e siamo riusciti a ribaltare il risultato nella giusta maniera. Non penso mai che ci siano stati grandi problemi da un punto di vista fisico, l'unico problema che abbiamo riscontrato, abbiamo avuto è che nel giorno d'andata hanno dovuto giocare quasi sempre gli stessi, quando giocano sempre gli stessi, ogni tre giorni è inevitabile che alla fine qualcosa puoi pagare da un punto di vista fisico. Oggi abbiamo anche la possibilità di fare qualche rotazione in più sugli esterni, ha recuperato Sanchez, non dimentichiamo che Sanchez era assente. Senza contare tutti gli altri abbiamo qualche arma in più e spero che i calciatori siano tutti bene. Nonostante questo abbiamo il problema di Andanovic che ha avuto questo problema, oggi non c'era Lautaro che era la seconda giornata di squalifica. Io dico che questa squadra sta affrontando comunque le difficoltà, grandi difficoltà in una maniera importante, perché sai poi quando vinci si copre un po' tutto e non si va a vedere che tipo di situazioni stiamo affrontando. Io dico che dall'inizio dell'anno stiamo affrontando le situazioni abbastanza difficili, però ci hanno fortificato e stiamo migliorando da questo punto di vista. Il primo tempo ha dimostrato che la partita l'avevamo preparato molto bene e che le caratteristiche messe in campo erano quelle adatte a mettere in difficoltà i nostri avversari. E' chiaro che in tre minuti è cambiato la partita, è chiaro che poi è cambiato l'atteggiamento mentale e l'Inter ha preso coraggio e noi purtroppo siamo diventati più fragili. E sono quei tre minuti lì sui quali dobbiamo avere molto rimpianti, perché al di là delle qualità dei nostri avversari abbiamo preso due gol che non dobbiamo prendere. Non dobbiamo prendere ed è un peccato, è un peccato perché il Milan ha fatto una grandissima partita. È un peccato anche non aver pareggiato alla fine con Ibra nell'occasione incredibile che abbiamo avuto. E' brutto sì da questa partita con una sconfitta così, ma dobbiamo assolutamente rivederla bene, sapere delle qualità che abbiamo, perché abbiamo messo sotto un avversario più forte, ma messo sotto in lungo e in largo. E però bisogna stare dentro la partita a 95 minuti perché sono bastate due disattenzioni, dove la squadra era piazzata bene per poi purtroppo perdere il derby. È scattato, ripeto, che i tre minuti dove abbiamo subito il doppio gol dell'Inter sicuramente la squadra non è stata più capace di reagire in modo lucido, di reagire in modo compatto, di reagire in modo da squadra come aveva fatto nel primo tempo e loro dopo chiaramente sono stati superiori.